quello che segue è il riadattamento del video non esistono satelliti nello spazio pubblicato la prima volta il 21 agosto 2016 nel 1943 nel maltempo delle leutine le navi cominciarono misteriosamente a navigare con precisione nelle peggiori tempeste sul pacifico gli aerei sopra le navi si incontravano per l'appuntamento in quelle che un tempo erano considerate condizioni impossibili e contemporaneamente nel pericoloso atlantico del nord facevano imprese straordinarie col maltempo un convoglio approdò perfettamente dopo una tempesta di tre giorni dove solitamente non poteva essere effettuata alcuna delle solite osservazioni c'era qualcosa di nuovo nella navigazione cos'era era segreto molto segreto una delle cose più preziose della guerra quelle all'interno quelli che sapevano usavano una strana nuova parola per descriverla quella parola era l'oran navigazione a lungo raggio alla fine del 1945 più di 3.000 navi da guerra utilizzavano l'oran 30.000 aerei che volavano verso obiettivi per la vita o per la morte trovavano la loro rotta con l'aiuto di l'oran il sistema l'oran divenne così vitale per le operazioni nel pacifico che spesso veniva utilizzato per arrivare a terra durante i bersagliamenti fu allestita una catena di stazioni l'oran che collegava i mari con una rete di linee radio in posizione ecco come funziona questa stazione l'oran gestita da personale qualificato è una delle catene mondiali queste stazioni inviano segnali di navigazione a lungo raggio fino a 1200 chilometri di giorno e 2250 di notte il timer l'oran è così preciso che un orologio da tasca con la stessa precisione funzionerebbe da 5 a 10 anni senza perdere o guadagnare un solo secondo le stazioni l'oran servono aerei di linea a 480 chilometri all'ora nei loro voli diurni e notturni sugli oceani di tutto il mondo le stazioni l'oran sono operative su ambedue le coste dell'america del nord lungo i due circoli del nord atlantico e del pacifico accurato efficiente ed affidabile funziona di giorno e di notte per chi vuole approfondire sul fornitissimo un indice alfabetico potete andare a vedere faro di capofrio 3 e l'oran l'oran ancora l'oran da evening star del 20 gennaio 1946 e l'oran da evening star del 20 gennaio 1946 in pdf l'oran pollice nel vuoto arco del lancio di razzo analisi vette terra piatta